Hai pensato cosa fare? Eh, ti faccio un'ancora, dai. Però così non so se ne usciamo, Vivi. Così, vai. Non posso farla qua in mezzo? No! Qua, no. Non c'è un tatuaggio dell'Inter che te lo cancello. No, no, no. Faccio qui in mezzo, dai. Qua, va bene. Qua così. Bene? Aspetta, eh. No, no, fallo qua, fallo qua, dai ti prego. E allora? Qua, qua, qua. Ma lì fa più male. Beh, non importa, non si vede meno però. Meglio soffrire. Va bene. Sono già tutto arrossato, guarda. Sicuro? Oddio. Non so se viene... È tutto nero! Non so se viene proprio bene. Ce l'hai sotto, Jake. È tutto nero. Cosa fa? Oddio. Forse è meglio se non guardo. Vai. Forse ti ho fatto anche un punto sul govito. Oh, ce l'hai avuta tu questa idea, eh? Perché? Non resisti! Bravo, bravo, bravo. Cavolo, bravo, bro! Eh... Finito! È... Go... Go! You kids. Come look. Aggropp. Grazie a tutti